Consigliere Teodoro, la questione Fontanelle, l'ordine pubblico nel quartiere è un problema sempre più grande, gli ultimi fatti ripropongono all'attenzione dell'opinione pubblica proprio il problema sicurezza. Sì, questo è il primo punto e questo è quello che molti cittadini hanno chiesto direttamente al sindaco venerdì scorso e a me che eravamo presenti in quell'assemblea e immediatamente il sindaco si è adoperato affinché con tutte le altre istituzioni, in prefettura con il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico si attivassero tutte le iniziative necessarie affinché si possa mettere un freno a una situazione che in questo momento sta toccando veramente il degrado profondo. C'è anche un problema di abusivismo in alcuni appartamenti e molti sono tornati a chiedere da più parti l'istituzione di un presidio fisso della Polizia Municipale. Allora, il presidio fisso della Polizia Municipale noi ce l'abbiamo anche se poi il servizio è ridotto solo al sabato mattina. Stiamo predisponendo, abbiamo già avuto con il sindaco un colloquio con il comandante affinché ci sia la possibilità di ampliare il servizio nel leader di tutta la settimana, nel periodo settimanale. Ma questa cosa la dobbiamo anche fare con le altre istituzioni e forze dell'ordine perché, come sapete benissimo, la Polizia Municipale non è un soggetto che si occupa di ordine pubblico.